Ragazzotti, Hakuna Matata, ben ritrovati dal vostro CiccioChemano89, siamo tornati in un nuovo video di Rainbow Six Siege. Subito un bel pollice in su, grazie infinite come sempre per il supporto, per i bellissimi commenti, per i like che lasciate. Vi apprezzo tantissimo, sappiatelo, infatti io mi sto impegnando da impazzire, addirittura butto anche delle partite e non ve le faccio vedere, quindi, raga, pensate quanto ci sto tenendo. Subito un bel pollice in su, la partita sta iniziando, diamoci dentro, paracadute sulle spalle, e let's go. Ah, non ho messo stop, volevo fare un rottino, poi ho detto vabbè. Questa è interessante come mappa, eh. Questa, se vi posso dire la verità, è interessante. Sampe, parecchio, allora, possiamo lavorare in diversi modi, o dalle finestre, o da sopra, però sopra io non riesco mai a fare una kill. Se si ha una kill. Ci riesco mai. Cioè, vedo gente che fa le kill qua, ma io, raga, mai. Peccato, facciamo così. Abbiamo il disinnescatore. Non credo, ma. Perché i miei stanno... Puscendo un bel po'. Invece loro sono bravi che non si stanno muovendo, raga. Loro non si stanno muovendo. Vaffanculo, mette. Ah, sto con figo gamer. Che cazzo se ne accorso. Non è giusto il disinnescatore. Un operatore alleato rimasto. Vittimo nemico rimasto. Oh, yes! Neutralizzati, vittoria per gli attaccati. Bene! Figo gamer! Te la dedico, puttanazza la miseriazza! Stai così! Secondo me... Io comunque la vedo grigia, raga. Spero di no, eh. Spero assolutamente di no. Che io mi stia sbagliando. Ma... A mio avviso... La vedo un po' grigietta. Allora, loro si sono rimessi sopra. Quindi noi possiamo riandare sopra. Possiamo fare più o meno quello che abbiamo fatto prima. Che comunque non è stato brutto. Allora, voglio vedere se... No, lui non fa quello che fa. Quindi... Faccio di questo. Ok. Io sto sempre attento ai C4 comunque, eh. Ok. Oh, devi morirci. Peccato di nuovo. Qui lo voleva rifare. Bene. Facciamo così. Aspettate un attimo, eh. Perché questi ce l'ho. Fatemeli usare. Fatemeli utilizzare. L'ho visto. Non ho fatto un tempo ad andarmene via. Vabbè. Perdo il pettino. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Potevo giocare meglio. Infatti ho detto... Ma te pare che mo' si è messo dall'altra parte. Si è messo dall'altra parte. Si è messo dall'altra parte. Vai, stai qua. Sta qua, ragazzi. A bomba proprio. Non so che cosa sia quella. Bene. Ah, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Bella, ragazzi. Così. Così. Bella però quella, eh. Mi piace. Così. Regà, loro continuano a mettersi sempre nello stesso punto. Contenti loro, contenti tutti. Che vedevo di? Ripeto, contenti loro, contenti tutti, guarda. Ovvio. A terza porta non credo di riuscire... A fare quello che ho fatto fino adesso, eh. Ho tutto l'amore del mondo, non ci credo. Però... Ok. Vai, vai. Fallo vola, fallo vola. Tante volte? Vabbè, era per foste turisate. Metti caso che funzionava. Era figo. Tanto quello non ce l'hai più. Occhio, zi, che qua ti aspettano 555 persone. Io te lo voglio dire. Lasciamo così... Un po' sprecato? Non credo. Ok. Ok. Occhio che... C'è uno... Che è abbattuto. Però non so dov'è. Ok. 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 Ma... Non hai scampo. Eh, ci sta. Oh, GG. L'ho messo a C4. Non so come l'ha sminchiata. Sarei stato molto curioso. Tanto curioso. Di capire come ha rotto la mia C4. Che me l'ero messo apposta lì. Oh, GG. Ce sta. Ce sta. Ce sta. Vediamo, va. Mi piacerebbe vincerla sta partita, eh. So che non è semplice. Perché lo so. Però mi piacerebbe davvero tanto. Il muro è rinforzato. Ma. Cioè, da capire pure se non mi arrivano dietro, raga. Mi sento un po' ovunque. Questa cosa mi spaventa, eh. Vediamo un po'... Dei videocamerine. No. Non sento nothing per il momento. Perché secondo me questa... In attacco non è facilissima, eh. Stanno sopra, no? Uno è caduto? La broia, che macello, raga. Ah, mamma mia. Che palle. Potevo fare una strage. Poi devo veramente fare una strage, ragazzi. Non l'ho fatta. L'ho massacrati. Però... Potevo, ma non l'ho fatta. Che testa di minchia, raga. Però me poteva, non morirai. Avrei fatto una bella robetta. Perché forse... Come al salito, sparo troppo... Io qualche trappolina l'ho messa in giro, ma... Bro, non c'è nessuno, ma... Esatto. Un bel 75. Me lo prendo. Cambio caricatore. Però sta ancora là. No, ce l'avevi a destra, zee. Sta proprio messo dalla parte sbagliata. Ce l'avevi a destra. Vedi, il B75. Siamo a 15 secondi. Bravo. Ultimo attaccante è rimasto in vita. È giusto, è giusto, è giusto. Bravo. Bravo. Bravo, Totò. Bravo, Totò. Allora, qua ti ripeto. Vaffanculo a me che non sono riuscito a farmi quelle che le l'ha. Ne avrei fatto... Ne avrei fatto una strage. Bene o male, le ho colpiti tanto. Mannaggia a me. Dai, cerchiamo di chiuderci sta partita, vamo. Siamo a 5 secondi. Ora dirli arredati. Dai, forza. E via. Sì, secondo me pure... Questi pushano parecchio, ragazzi. Questi pushano un botto. Bravoo. Ok. Meglio di no, eh Facciamo così Che non è perfetta Ma sti cazzi Ok Ok Infatti immaginavo Volevo stavare a dire Questo Speriamo che non me one shot Ai 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 Ultimo nemico rimasto Ok Quindici secondi Il tempo scade tra dieci Ok Vittoria alla difesa Meno male Meno male Meno male Ho avuto una buona mira Oh regà Sono contento di sta partita Molto contento E ve la dedico veramente Con il cuore in mano Regà Cioè Non male Non male Bella squadra Tutti Siamo comportati bene Bene io Io fido A Figo Gamer Glielo lascio E anche a Totò Che mi ha dato Un pollicione Grazie ragazzi Io ho appresso tantissimo Quando mi incomiate Bene 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 Bella partita Bella partita Andiamo a vedere quanto siamo Vediamo un po' eh Che bella partitina Quanto siamo Ci vorrà un po' Regà Ci vorrà un po' Ve voglio bene Tante belle cose a voi e famiglia Bella Bella Che bella